In scena abbiamo anche analizzato gli accordi tra gli aeroporti oggetto di indagine e le compagnie aeree che volano su questi aeroporti nei casi di Zweibrucken e Alghero. Abbiamo concluso che alcune compagnie aeree che operano in questi aeroporti hanno ricevuto gli utili stati incompatibili. Si tratta di Ryanair, Two Fly e German Wings per Zweibrucken e German Wings e Meridiana per Alghero. In altri accordi tra aeroporti e compagnie aeree abbiamo concluso che gli introiti dell'aeroporto erano superiori ai costi supplementari della presenza delle compagnie aeree nell'aeroporto, quindi non c'era nessun vantaggio inventato per le compagnie aeree.